credi che il risultato di 1 a 1 sia giusto Mauro? beh per quello che si è visto nel primo tempo credo proprio di sì la loro determinazione è stata premiata e probabilmente il gol del pareggio darà loro un'ulteriore carica nel secondo tempo 1 a 1 è un risultato aperto, il secondo tempo si annuncia molto interessante